In Toscana ben 156 comuni sono a rischio sismico medio-alto e solo 24 a basso rischio e se di maremoti non se ne registrano da quasi 300 anni, alluvioni e allagamenti sono frequenti. Per questo è fondamentale che anche tra i cittadini ci sia una conoscenza diffusa delle buone pratiche di protezione civile. Per questo torna all'iniziativa Io non rischio, che domenica porterà in oltre 500 piazze italiane punti informativi per sensibilizzare i cittadini sul rischio di terremoti, alluvioni e maremoti. Protagonisti dell'iniziativa, giunta all'undicesima edizione, sono le migliaia di volontari e volontarie di protezione civile appartenenti a circa 500 associazioni. L'anno scorso l'abbiamo dovuta fare esclusivamente in via virtuale, quest'anno torniamo anche nelle piazze. A livello nazionale sono 500 le associazioni coinvolte, 500 le piazze vere nelle quali ci ritroveremo. In Toscana sono 43 le piazze, di cui 16 sono piazze reali, non virtuali. Quindi torneremo a parlare con le persone. Troverete in molte piazze toscane il gazebo giallo, simbolo della protezione civile, con la scritta Io non rischio, fermatevi a parlare con i nostri volontari, con gli operatori della protezione civile regionale perché potranno darvi indicazioni utilissime su come ci si comporta prima, durante e dopo una grande emergenza.